Siamo con Isabella Minot della Lodoteca Il Mondo di Silda, proprio per parlare di questione educativa dei ragazzi che in questi periodi stanno avendo meno spazi e meno opportunità educative. Come è cambiato in questo anno e mezzo, quasi due anni di pandemia, il rapporto educativo con i bambini e come è cambiato il vostro lavoro? Di cosa sta soffrendo questo mondo? Buonasera a tutti. In questo anno e mezzo che abbiamo iniziato a poter ritornare a lavorare, il rapporto educativo con i bambini è cambiato molto, perché comunque ci siamo ritrovati a dover affrontare situazioni anche abbastanza difficili, siccome la pandemia ha costretto comunque famiglie a dover stare in casa. Quindi alcune volte si è pensato a un discorso di creare ulteriormente legami e le relazioni con le famiglie, diciamo tra bambini e famiglie. Molte volte però abbiamo trascurato il fatto che non tutti i bambini vivono bene in famiglia e quindi abbiamo poi trovato difficoltà comunque nel relazionarsi tra di loro, nel relazionarsi con l'ambiente esterno. Infatti la fortuna è stata comunque poter usufruire del giardino della scuola della San Giovanni Bosco e poter fare tutto durante l'estate in outdoor education. Quindi in questo modo qui abbiamo dato la possibilità ai bambini veramente di poter mettere fuori il loro essere appunto bambini, quindi la loro creatività, la loro voglia di giocare, di stare insieme, di sporcarsi e anche di sbucciarsi le ginocchia che purtroppo manca. Diciamo in questo periodo manca tanto e un po' perché alcune volte la nostra città non ce lo permette perché comunque non abbiamo spazi adatti allo stare fuori, al vivere la propria città che è una cosa fondamentale per il bambino e quindi abbiamo cercato nel nostro piccolo di poter dare questo servizio. Quindi abbiamo collaborato con il maneggio, li abbiamo portati a cavallo, siamo stati nel bosco, a Bosco Quarto, quindi vedere la bellezza di un bosco, l'amore per la natura, per l'ecologia e insomma per quelli che sono appunto gli spazi che in realtà sono innati nel bambino. I bambini riescono a rispettare le misure di sicurezza? Sono più attenti di noi adulti o sono meno attenti? Io non so se ho la fortuna di avere bambini e famiglie fenomenali perché uno appena abbiamo raccontato loro un po' il discorso del virus sempre con i giochi, con le storie e tutto quanto. È stato bello perché loro stessi hanno potuto sperimentare diciamo sperimentare tra virgolette la cosa brutta di dover stare a casa oppure di avere l'amichetto che non viene per un po' di tempo e quindi hanno capito effettivamente l'importanza di avere ad esempio la mascherina. Infatti nell'ultimo periodo che siamo passati comunque all'FFP2 loro senza difficoltà hanno subito indossato mascherina, all'inizio mettevano anche le visire per poter fare i compiti, poi quello l'abbiamo eliminato, insomma siamo riusciti a mantenere solo la mascherina. Il distanziamento diventa quasi impossibile nei bambini perché nella loro natura doverci abbracciare soprattutto con i più piccoli è una cosa impossibile, però abbiamo capito che sta a noi adulti poi dover utilizzare comunque quelle che sono le misure di sicurezza per salvaguardare comunque la salute di tutti e quindi siamo noi che ci dobbiamo adattare ma non sarebbe giusto far adattare il bambino. Grazie. 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 Grazie.